buongiorno ragazzi oggi parliamo dell'arte di fine millennio cioè l'ultima parte del ventesimo secolo e ne parliamo in generale soffermandoci poi sull'architettura sono molti gli eventi dei quali potremmo parlare io ne ho selezionato qualcuno anche perché è importante conoscere se non queste date perlomeno il fatto che queste cose siano avvenute intanto dalla metà o poco dopo la metà dagli anni sessanta del novecento si ha una presa di consapevolezza della società riguardo a tantissimi temi per i quali invece prima erano passive le masse insomma cioè non influivano molto tra cui per esempio la politica delle varie nazioni abbiamo la nascita di movimenti di protesta il movimento studentesco di protesta del 1968 per esempio che ha il suo cuore in francia e in italia ma un po dappertutto insomma sarà una grossa rivoluzione sociale di modello del pensiero io ho scritto movimento studentesco perché fu guidato moltissimo e soprattutto dagli studenti ma è un movimento generale che prende totalmente la società e abbatte alcuni vincoli alcuni dogmi per i quali per esempio avevano protestato tutti gli artisti a partire dall'inizio del novecento per esempio la parità tra i sessi tanto per dirne una nel 69 e questo è un importante traguardo a livello esplorativo tecnico per quanto riguarda l'uomo abbiamo lo sbarco sulla luna che oltre a essere in un certo senso l'apice uno dei momenti simbolo della guerra fredda perché la gara sostanzialmente per la conquista della luna o in generale per la conquista dello spazio fu tra stati uniti e unione sovietica avviene nel 1969 ad opera degli stati uniti con la missione appollo 11 dopodiché fatto importantissimo dal punto di vista politico nel 1989 abbiamo il fatto che sancisce la fine della guerra fredda perciò la caduta del muro di berlino finalmente berlino si riunifica le grandi dittature di lì a poco cadono e le grandi dittature dell'est le grandi dittature comuniste perciò sia il crollo dell'unione sovietica e il mondo si apre a questo nuovo periodo che porterà poi alla globalizzazione quello che viviamo anche noi oggigiorno in più c'è da dire dal punto di vista tecnico che perciò influenzerà tantissimo non solo il mondo dell'arte ma tutto il mondo in generale c'è nel 1939 l'invenzione del computer ovviamente il computer non sarà utilizzabile in maniera funzionale e non influirà perciò sulla cultura di massa ma neanche in generale sulla cultura più specifica dell'informatica fino agli anni 70 ma addirittura per quanto riguarda la società fino agli anni 80 del novecento perciò abbiamo una quarantina d'anni 41 anni che devono passare prima che questo mezzo tecnologico importantissimo oggigiorno essenziale per la nostra società e per il nostro modo di vivere e anche di lavorare di condurre l'esistenza il che aprirebbe forse a delle critiche però importantissimo ok andiamo alla pagina specifica intanto come vi avevo già detto parlando del dopoguerra l'arte di fine millennio non ha un inizio preciso la facciamo partire dagli inizi dagli anni 60 insomma fino agli inizi invece degli anni 70 tra 60 e 70 è un passaggio graduale anzi siamo proprio noi che studiamo la storia dell'arte a suddividere il novecento la seconda parte del novecento in questi due grandi tronconi per comodità di studio in realtà è un unicum o meglio è un passaggio attraverso diverse fasi che porta a questo modello dell'arte di fine millennio chiaramente arriverà fino al 2000 dove il millennio il primo millennio dopo cristo finisce intanto come abbiamo già detto c'è l'affermazione del mezzo televisivo ne abbiamo parlato probabilmente parlando dell'arte pop e facendo riferimento al boom economico il mezzo televisivo negli anni 70 80 crea forma questa cultura dei mass media questa società improntata sulla notizia sulla diffusione dell'informazione tramite la televisione che appunto modificherà anche il mondo dell'arte ma addirittura c'è qualche antropologo che ipotizza che il crollo dei grandi regimi delle dittature sia dovuto anche alla televisione perché perché la televisione è una finestra attraverso la quale noi conosciamo il mondo e perciò se viviamo in una parte del mondo arretrata possiamo vedere e capire che il mondo fuori è più avanti è diverso lo possiamo conoscere di conseguenza lo possiamo anche desiderare come ho già detto queste rivoluzioni del 68 creano dei movimenti che portano all'emancipazione sociale non solo anche a tantissimi diritti che vengono conquistati dal punto di vista dei lavoratori anche proprio in italia per esempio abbiamo il crollo dei regimi comunisti come abbiamo già detto le società le città soprattutto si ingrandiscono a un livello tale da inglobare altri centri che hanno intorno e perciò diventano molto più complesse e grandi del concetto originario di metropoli e vengono definite le avrete studiato probabilmente in geografia megalopoli si apre perciò questo nuovo capitolo della società che è la società postmoderna la società postmoderna è caratterizzata dalla consapevolezza che il mondo presenta delle incertezze che non tutta la civiltà e la società segue una linea regolare di sviluppo e perciò ci sono diverse possibilità per l'uomo diversi modi diverse strade da intraprendere la modernità non è l'unica chiave l'unica via da seguire lo vediamo per esempio anche adesso con questi nuovi movimenti che negli anni è perché sono passati tanti anni in realtà dalla nascita della postmodernità che possiamo situare negli anni 80 del 900 però anche i movimenti quali quelli ambientalisti che hanno le loro radici in fondo dai movimenti del 68 si rendono conto che forse la via non è solo quella economico tecnologica offerta dalle civiltà occidentali della metà del novecento la nascita dell'informatica come abbiamo già detto influirà tantissimo su tutto lo sviluppo umano e abbiamo appunto questo insieme di fenomeni che porta all'era della globalizzazione la globalizzazione è il modello per il quale noi possiamo avere l'informazione e il prodotto in qualsiasi luogo del mondo questo può essere positivo ma può essere anche negativo perché questo uniformarsi della cultura cioè la cultura che si somiglia un po ovunque cancella le realtà locali dei posti le radici forse di ciascuna società e questo come abbiamo visto avete di sicuro visto studiando la storia può essere pericoloso perché senza radici è anche difficile costruire una società e una civiltà equilibrata ma torniamo a noi all'arte quali sono le caratteristiche generali dell'arte di fine millennio intanto il confine tra le tipologie artistiche quelle classiche no pittura scultura architettura che noi comunque andremo a vedere è confuso vi ricordate nell'arte del barocco che si tendeva e si cercava a raggiungere un'arte di raggiungere un'arte totale cioè mettere insieme scultura pittura architettura per creare una forma unica che fosse coinvolgente adesso gioco forza queste tipologie sono confuse sono mescolate anche perché i mezzi tecnici non permettono più di riconoscere sempre e comunque un modo rispetto ad un altro di esprimersi tant'è che tantissimi artisti non ci fanno neanche più caso in un certo senso a quale tipo di arte producano abbiamo anche soprattutto il coinvolgimento della musica del teatro della danza la video art eccetera eccetera l'arte fatta tramite mezzi virtuali col computer poi ci sono quelli che invece utilizzano oggetti di recupero e dunque si va a riprendere alcune parti è come quando io vi dico tecnica mista fatela un po come volete insomma tra queste tipologie allora tra gli anni 60 e 80 del novecento si affermarono delle nuove tipologie per esempio quando andavo all'università io andava tantissimo la prima che vediamo la performance allora certe sono semplici da capire altre sono un pochino più complicate però come ve le spiego io dovrebbero essere tutte e tre semplici in primis abbiamo la performance la performance lo dice la parola è un'esibizione cioè è un'arte che non può avere un prodotto non deve per forza avere un prodotto è proprio il momento nel quale l'artista si esprime a essere la forma d'arte un concerto tanto per dire una cosa semplice un concerto rock è anche un'esibizione è anche una performance tutte queste cose questi concetti vengono portati nel mondo dell'arte perciò ci saranno degli artisti che eseguiranno delle performance all'interno delle gallerie o in determinate situazioni e creeranno così delle opere d'arte era una cosa che già sfruttavano abbiamo visto per esempio i dadaisti introducendo il mondo del teatro nella loro ottica di arte perciò è semplicemente l'affermarsi di una tendenza già in atto dai primi del novecento stessa cosa per quanto riguarda l'happening che è un evento l'organizzazione di un evento di qualcosa che succede happening vuol dire che sta accadendo insomma e che richiede la partecipazione del pubblico perciò chi assiste all'opera d'arte partecipa all'opera d'arte è alcune volte l'opera d'arte e poi abbiamo l'installazione l'installazione è un'opera d'arte diciamo vista dal punto di vista più tradizionale perciò ci vuole un oggetto dell'opera che però è legata al luogo nel quale viene collocata o tantissime volte viene creata cioè non può essere spostata per avere comunque un significato ed essere importante deve stare in quel luogo nel quale è stata fatta o in un luogo a fine simile che possa centrare con lei è un po come creare una scultura che deve stare per forza in un luogo l'esempio che faccio sempre è la ragnatela se io dovessi pensare a un'installazione che è una grande ragnatela come se ci fosse un grande ragno ad averla fatta devo per forza metterla in un luogo che abbia degli alberi o dei pali o dei punti ai quali allacciarsi io me la immagino nel bosco perciò in realtà se dovesse essere veramente come la immagino io dovrebbe stare per forza in un bosco con degli alberi l'installazione perciò un'opera d'arte che ha senso solo nel luogo nel quale è stata pensata per fare questo come del resto succedeva già da un pezzo si utilizza qualsiasi materiale qualsiasi mezzo tecnico cioè va a decadere un po questa lunga tradizione del marmo e del bronzo nella scultura per forza anche se si potrà ancora utilizzare oppure della pittura tempera olio acquarello per forza ok ovviamente l'architettura segue un po dei binari diversi cambiano i materiali seguono comunque questo tipo di cambiamenti le opere architettoniche ma in realtà sono sempre vincolate spesso vincolate ad una funzione specifica che possiamo generalizzare dicendo il vivere dell'uomo l'abitare anche se non è sempre così cosa c'è di diverso dall'arte del dopoguerra il primo periodo dopo la seconda guerra mondiale intanto si rivendica cioè si dice che l'architetto è una persona che deve essere creativa cioè gli edifici non possono essere soltanto funzionali soltanto razionali ricordate che l'ultimo movimento al quale abbiamo accennato era il razionalismo anzi l'architetto si deve esprimere deve rendere la città o comunque il luogo che va a contribuire a costruire grazie alle proprie costruzioni deve renderlo piacevole o comunque diverso può influire artisticamente con le sue creazioni il mestiere dell'architetto inoltre è rivoluzionato a partire dagli anni 70 80 perché perché si afferma come abbiamo detto l'informatica e al tecnigrafo tradizionale con le matite o con i rapidograph e il foglio di carta si affianca e poi si sostituirà totalmente l'utilizzo del computer grazie ad un linguaggio che è il linguaggio cad è quello che sfrutta il sistema degli assi x y e z come avrete studiato sicuramente in matematica per costruire modelli tridimensionali grazie a questo gli architetti possono permettersi di fare intanto dei calcoli velocissimi riguardo ai pesi riguardo alla portanza di qualsiasi struttura loro creano perciò possono essere sicuri che le cose non crolleranno facilmente insomma e in più possono azzardarsi a costruire delle forme complicate perché i disegni quando un edificio diventa complesso sono anche tanti da fare ma grazie al computer se io ho fatto un modello 3d posso farne infiniti insomma quanti ne voglio perciò gli architetti vedono aprirsi improvvisamente ed espandersi il mondo delle loro possibilità allora vedremo tre movimenti principalmente anche se i movimenti sono tanti e sono diversi e andranno a moltiplicarsi in quella che sarà l'arte del nuovo millennio intanto il primo è quello forse più arcaico ormai è il movimento post moderno il movimento post moderno si basa sul mescolamento a piacere a gusto di diversi elementi e stili del passato cioè l'architetto dice io sono una persona che crea e posso reinterpretare la storia dell'arte e pescare dalla storia dell'arte quello che voglio in base a quello di cui ho bisogno a seconda delle volte questo argomento tra l'altro lo trovate a pagina 446 e 447 del vostro libro come anche quest'opera d'arte ad opera dell'architetto philip johnson è l'american telephone and telegraph building che sta a new york come vedete questo edificio può apparire che poi un grattacielo può apparire razionalista perché vediamo delle finestre molto regolari pare che gli uffici siano collocati tutti nello stesso modo ma in realtà se guardiamo lo stile e si nota soprattutto in cima ma poi magari a scuola vi farò vedere altre fotografie o andate a cercarle voi su internet anche alla base dove c'è l'ingresso che è molto interessante vediamo una reinterpretazione dell'architettura romanica o comunque classica in generale questa forma di timpano viene spezzata e fusa insieme alla forma tipica del rosone che c'era nel romanico e nel gotico cioè johnson utilizza in modo anche intelligente ma comunque fantasioso elementi della storia dell'arte del passato per rendere più piacevole e più interessante il suo edificio ci sono altri altre costruzioni che sono invece molto più fantasiose per esempio mi viene in mente piazza d'italia new orleans di new orleans scusate di mur che è particolarmente bizzarra con tantissimi elementi dell'arte italiana antica mescolati andatevela a vedere che è interessante poi abbiamo l'architettura high tech questa è molto importante ho scritto vicino alta tecnologia high tech significa proprio questo gli artisti continuando quel filone che parte dall'architettura che realizza la tour eiffel perciò dall'architettura degli ingegneri in fin dei conti e che come vi avevo già detto diventa poi esteticamente piacevole con il tempo e continuando il discorso poi del razionalismo ma facendo attenzione a non renderlo solo funzionale utilizzano gli elementi tecnici e tecnologici che andavano alcune volte nascosti negli edifici per invece renderli decorativi un esempio semplice che magari avete già visto insieme alla professoressa di francese è l'essantre pompidou a parigi di renzo piano tra l'altro renzo piano è un architetto che vi dovete ricordare bene ancora vivente molto molto famoso forse il più grande architetto dell'arte del nuovo millennio che poi cambierà via adesso si concentra moltissimo sull'architettura ecosostenibile però renzo piano in questo caso insieme a richard rogers che è l'ingegnere che insieme a lui crea al centro pompidou creano questo spazio multifunzionale polifunzionale all'interno del quale c'è anche un museo d'arte contemporanea bellissimo che vi invito ad andare a vedere se per caso passate in quel di parigi e come vedete sembra circondato da delle impalcature e ci sono dei tubi delle tubature che passano ben visibili e su un altro lato anche dell'edificio colorati con colori sgargianti e diversi e creano in realtà questo aspetto estetico cioè l'edificio è dato proprio da questi elementi tecnici che lo sostengono che lo formano dunque la poetica cioè il modo di esprimersi dell'artista dell'architetto passa attraverso l'utilizzo di questi elementi tecnologici infine guardiamo il decostruttivismo che è quello rispetto agli altri due più recente dal punto di vista cronologico e caratteristico soprattutto degli anni 80 scusate degli anni 90 del 900 di quando io ero studente insomma e si basa tantissimo sull'utilizzo del computer come vi avevo detto il decostruttivismo crea degli edifici dalle forme molto complesse che infatti possono sembrare se guardati anche delle grandi sculture cioè non sono solo degli edifici ma sono delle forme particolari è il caso per esempio dell'architetto gheri o gheri in realtà o apostrofo gheri franco gheri che crea il museo guggenheim a bilbao nel vostro libro viene presentato come l'architettura del nuovo millennio è infatti il decostruttivismo che porta gli architetti verso il nuovo millennio l'edificio è della fine degli anni 90 penso 1997 aspettate sì è così e sta a pagina 448 del vostro libro come vedete non possiamo affermare che questo sia solo e per forza un edificio e perciò la sua forma abbia la mera la solitaria funzione di ospitare qualche cosa qualche attività umana ma in realtà si può dire anche che è una bellissima tra l'altro scultura moderna tra l'altro anche questo è un meraviglioso museo ok la lezione di oggi è finita continueremo parlando delle neo avanguardie a scuola perché sono un discorso particolarmente complesso ma anche molto interessante arrivederci